all'interno della casa del grande fratello le speculazioni su chi potrebbe essere il prossimo concorrente a rischio eliminazione sono in pieno fermento a questo punto massimiliano varrese potrebbe non essere l'unico a dover affrontare il televoto si parla di simona tagli per la vatiero e anita olivieri come possibili candidati grande fratello i sondaggi svelano il prossimo nominato chi è in pericolo recentemente un sondaggio online ha raccolto più di 800 preferenze in sole 12 ore e si concluderà tra pochi giorni i risultati preliminari sembrano indicare un forte appoggio per simona tagli la quale dopo la certezza di un posto in finale grazie a beatrice luzzi ha ottenuto una schiacciante maggioranza di voti a suo favore la preferenza per lei è stata netta e inequivocabile ben il 97,4 per cento dei voti per quanto riguarda per la vatiero al momento ha ricevuto solo il 2,1 per cento dei voti nonostante sia stata recentemente al centro dell'attenzione a causa delle sue vicende amorose con mirco brunetti per la sembra aver perso il suo status di leader all'interno del gruppo ritrovandosi coinvolta in una relazione che molti percepiscono più come una parte da recitare che come un vero sentimento la loro storia messa in crisi da temptation island pare non sia stata completamente risanata nonostante gli sforzi del grande fratello ecco chi potrebbe uscire secondo i sondaggi infine anita olivieri si trova in una situazione delicata con solo lo 0,5 per 100 dei voti si trova in un periodo di alta tensione sia per il suo rapporto conflittuale con giuseppe garibaldi che è stato criticato per il suo comportamento invadente sia per la sua frustrazione nei confronti di massimiliano varrese disturbato dalle numerose nomination e dal discorso morale sulla necessità di sacrificarsi per i concorrenti più giovani in conclusione se il destino dei concorrenti dipendesse dagli attuali orientamenti del pubblico anita olivieri la giovane romana nata nel 1997 potrebbe trovarsi a dover combattere per mantenere il suo posto nella casa contro massimiliano le prossime giornate saranno decisive per capire chi sarà costretto a lasciare l'avventura del grande fratello e chi invece potrà continuare il suo percorso nel reality Grazie a tutti Grazie a tutti